Cantiere di Giardini al Lago di Comu, uffici comunali ancora al lavoro sull'aggiudicazione degli interventi. Dopo l'esclusione della prima azienda classificata, lo scorso 20 giugno è arrivata la notizia dell'inammissibilità anche della seconda, l'inizio delle valutazioni per la terza ditta ingraudatoria. La seconda impresa ha poi fatto ricorsa al TAR che ha colto la sospensiva. Ora dunque i tecnici comunali stanno valutando sia andare avanti con le verifiche per l'aggiudicazione della terza ditta ingraudatoria oppure attendere il giudizio. Al momento dunque ancora non è stato assegnato l'appalto per la riqualificazione dei giardini al Lago Comaschi, ma il tempo intanto stringe. Prima della pausa estiva era stato il sindaco della città Alessandro Rapinesa a rassicurare ipotizzando la partenza del cantiere nel mese di ottobre. Ora il primo cittadino spiega gli uffici sono al lavoro e stanno valutando la situazione. Un solo mese dunque alla partenza degli attesi lavori qualora le verifiche da parte del comune sulle restanti imprese classificate badano a buon fine. Alla manifestazione per l'assegnazione dei lavori di riqualificazione dei giardini al Lago Cittadini, in totale avevano partecipato 57 operatori economici, 8 gli ammessi di cui 2 con riserva. La durata dell'appalto è di un anno ed il valore complessivo supera i 2 milioni e 700 mila euro. Al momento dunque il cantiere non è stato ancora assegnato.